ciao a tutti allenatori sono sempre io il vostro amico federic 95 bentornati su pokémon dark rising in compagnia di delarze tuberanza episodio 31 ciao ragazzi ciao ragazzi io vi saluto inizio subito giocando d'azzardo qui 7 anche tu mirko sì sì io però faccio triplo 1 2 3 perché vabbè mirko lo sappiamo che per giocare d'azzardo bisogna essere maggiorenni però tu sei proprio il triplo dell'essere maggiorenne te sei già con un piede nella fossa vado spendere tutti i soldi della pensione vabbè ragazzi dai andiamo nel dark lab che non sta rispondendo e quindi ecco infatti ecco ecco dopo vi chiedete cioè tube perché non fai altri video con delarze lo vedete lo vedete voi stessi che mi prendono in giro e poi seguite questi signori qui che mi prendono in giro no raga mi è cascata una lacrima quando ha detto mi prendono in giro lo giuro mi sto sentito male no mirko non fare così ragazzi queste sono cose a cui io ci tengo nonostante tutto vabbè comunque dai è normale che si comporta così è risaputo che in fase di vecchiaia si diventa più scorbutici da si ritorna bambini più che altro vabbè mirko non mi pare che sia mai cioè non è che ci ritornano è sempre stato quindi vabbè vabbè raga comunque dark lab per concludere ragazzi per me penso che per oggi sia veramente tutto che dire oh grazie per avermi invitato in questa serie maledetta e serie maledetta ma c'è troppo artrito io l'ho detto raga ma va a cagare no raga questo questo è il miglior trio di youtube italia ci sta qua un ciccione e uno sbirro che non mi fanno passare perché non mi fanno passare perché è il mare che ho detto di andare c'è c'è un pulsante da schiacciare al biro di roma io non ho mai schiacciato oddio no mirko non riportare in vita cose morte vabbè zio sono vecchi e vecchi colorado oh mio dio vai andiamo a schiacciare il pulsantino ciao ah sto facendo una guardia al poster ciao whirlipid e snizzle attenzione sono morti prima ancora di buttarli in campo però io lo chiamo vrillipede sì perché se sei tu che hai delle difficoltà vrillipede aspetta quello che ha le difficoltà nelle pronunce quello so io perciò mantengono le distanze mitico gar comp della mia top 20 gabriel gar comp ma perché ma perché ma perché dai fa ridere zio fai straridere zio non so come fai e lo so lo so bro gabriel gar comp no un'altra volta i labirinti mo sbrocca veramente sti labirinti sono assurdi non riesco a capire dove è sta chiave e tra l'altro mi hanno detto che alla lega pokemon al posto del campione in realtà c'è un labirinto che ti porta a un altro labirinto dove poi c'è un uomo che ti vada in campo il pokemon labirinto che verrà poi introdotto nell'ottava gen che si chiamerà pokemon super ultra sole la super ultraluna super labirintum sì ma io ok poi c'è c'è la chiave va match me crocodile e drapion drapion facciamogli un bel litch seed e un earthquake ragazzi io io sto andando avanti per inerzia ma secondo me things band tutto basta ragionarci un attimo mirko ma ti sembra uno che ragiona dai dai però ce l'avevo fatta cazzo ce l'avevo fatta scommetto che lo sai cosa hai fatto mirko no zio a caso ce l'avevo fatta non mi dire hai schiacciato il shift e sei andato verso l'alto no è perché io poi dopo premo la barra spaziatrice eccolo è quello che è successo a me prima guarda allora è una bestemmice no no di a no ok allora non so se io vado di qua in teoria mi porta o le ok raga io ce l'ho fatto sono arrivato all'ascensione non seguito la chiave quasi oddio ma so si sono fatto vai il laboratorio 14 andiamo al 4 ma te lo ricordi il film overtop no era over the top minchia ma che ne sapete voi piccoli bimbi ma che ne sapete no invece ti ricordi il programma televisivo top of the pop lì ok al sabato con quello che in realtà ha vinto il grande fratello si raga daniele bossari ah è vero si miseria what's happening che è successo che è successo a sfidare praticamente il tipo di nero e bianco il protagonista tutta zia oddio c'hai l'ordina telefonata la zia lascia stare mia zia o mi sia io o ma io sono in un vicolo cieco cioè io qua non posso andare a nessuna parte perché non che non devi andare là devi prendere le scale non mi dire che ha fatto tutta questa per niente e no io devi andare alle scale e prendere la chiave e dove stanno le scale all'entrata perché non devi fare il percorso tu o porco aspetta ma dove ma ste chiavi da dove si ottengono dalle scale non devi andare all'ascensore prima le scale e poi l'ascensore ok fin qua ce l'ho arrivato io sono sceso tutto sotto mo sotto c'è un altro percorso è la la vai avanti e sto andando avanti perché indietro in g seconda ma davanti qua wheezing che c'ha lanciafiamme da una vita e il sottacco stab i paroloni mirko allora federic particchiare amicizia lunga non mi offendere wheezing ma se non mi fa proprio schifo ma perché c'ha più anni ma 90 l'incubo è tornato l'incubo è tornato raga lo sai lo sai perché ha portato i curem a 90 no mi si è spiegato a tua zia oh zio santo ma perché ma perché madonna mia madonna mia hashtag viva la zia di federic rega grande ma che c'è tua mia zia così ragazzi sti allenatori viva la sorella di federic ragazzi allenatori sono fortissimi c'hanno curem black a livello 90 stesso incubo guarda l'incubo l'incubo è tornato vi giuro mi serve assolutamente una senti fede ma stessa stanza stesso posto stesso bar ho trovato una list che tra l'altro poi rimane lì e tipo va bene eh sì stesso posto stesso oddio mio stesso stesso continua bar e poi prima se la gente che conosco chavrà non mi ricordo più quelli sono gli anni d'oro e non sono quelli del grande milan del real del real no quella è la canzone quella la del amica se prima erano gli anni d'oro del real adesso che che cavolo sono è già che la furia cioè stanno a vincere di tutto ronaldo c'ha più pallone d'oro che figli effettivamente non è che potrebbe avere zio ma ha detto che vuole sette figli mio dio sette mini ronaldi non ne vuole 11 era più ragazzi magari uno di quelli viene al milan mio dio quanti soldi ci avranno quei figli messi insieme comunque apro una piccola parentesi che non c'entra niente con il video ma la devo aprire perché ora mi ci ha fatto pensare mirko mi fai nervosire ti ricordi l'ultimo anno che abbiamo vinto il campionato nel 2011 che si parlava di cristiano ronaldo al milan ma era tipo ma si parlava proprio in modo concreto cioè non erano solo di serie era tipo che si stava lavorando veramente sì ma che poi infatti in realtà l'abbiamo l'abbiamo comprato poi dopo lui non ci è voluto venire però è un altro discorso madonna raga quanto è forte earthquake morto magmortar ok dobbiamo affrontare raga ma dopo ecco ecco ce l'ho fatto ce l'ho fatto le tipe di nero e bianco aspetta ma usate scusate qr mb soffre fuoco giusto puoi fare anche terremoto oltraggio a ok allora andiamo con terremoto dai ma aspetta ma la porta come si apre io solo la lift chi ma se vado sulla porta quella lì non non succede niente l'ascensore daniel ma non ti ricordi i vecchi giochi dai allora sì zio ma qua è impossibile cioè puoi fare gli accostamenti certe volte ma è troppo no no ma è uguale guardi anche la mappa è uguale comunque dobbiamo affrontare appunto i tipi di nero e bianco quello che sta affrontando mirko che sono tipo fortissimi quindi ragazzi bocca al lupo guarda wheezy wheezing tu c'è dove sta l'ascensore la mamma nella bifare il primo labirinto da il primo di tutti ok fare la morte ok ragazzi chi rem madonna mia madonna mia sonage no vabbè questo che io nemmeno lo batterò mai nella vita si 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 vai vediamo chi si stanca prima a ti è stancato a usare le furere store è merda a merda spudo un bacio devo usare per forza le vitalizzanti perché sennò qua ci muoio eh devo usarle anch'io eh ma so forti eh sono veramente delle bestie ma no non è che so forti è che curano i pokemon quindi danno un po' fastidio più che altro mamma mia ice beam quanto mi fa male beh revive su allora fede adesso ti faccio una domanda no ice beam no perché che cosa significa geloraggio bravo beh zio non è che ci vuole a un maestro eh vabbè zio ma da federic me ne aspetto sti pezzi a che piano bisogna andare l'ultimo b4f ma tu sei stronzo tuberanza però eh infatti si ma etere l'abbiamo etere tipo da qualche parte dai non è vero non so stronzo perché dai etere non ce l'abbiamo impossibile non abbiamo un etere ragazzo ti ho fatto fare una bella figura davanti a tutti i tuoi iscritti mi stai dato lo stronzo non ti avrei mai chiesto qualcosa che sapevo non sapessi ah etere ce l'ho etere 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 eh groudon earthquake ok madonna raga bag guarda devo fare schioppa ok quanto so forti quanto so forti sono più forti comunque gli iscritti stavano un po il gioco insieme a noi non per dire ma penso ci hanno aspettato tutto sto tempo qualcuno si è no no impossibile va bene vabbè grande l'ho battuto proprio così facilissimo battuti tutti e due raga vediamo la tipa adesso e ora però bisogna curarsi perché qua se non ci moriamo male ci sarà anche uno più forte dopo da impossibile impossibile ok sto gioco una figata comunque adesso me sta piacere allora federic allora mo a me va bene tutto però le cavolate per favore te ne tieni per te ok ma capì però nelle scorse parti se lo insultavamo il gioco diceva che non lo dovevamo insultare si 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 mi ricordo se proprio scemo in testa ok raga bisogna barri ragazzi rivestitevi fate colazione perché tra poco vi porto all'asilo raga non so che c'è uno se c'è uno seduto con dietro tipo un bug del gioco non so c'è tipo una cosa tutta sembra come si chiama venta fede è un boss dopo di quei due lì davanti però non so come si chiama danni quel pokemon misteriosissimo a cavolo come si chiama quello la specie di bug mi signo si puoi no quell'altro vabbè forse miss non lo so provo a batterlo federic chi è questo tipo che cavolo vuole da rugis oddio è il capo del team magma no vabbè raga pokemon troppo forti no vabbè allora io sto un attimo cercando qualcosa per curarmi dal paralys ok golur che livello raga inizia con golur che lo dico bello c'è i pokemon forti questo tipo raga qual'era quello per curare tutti i problemi di stato full heal full heal si chiama si raga comunque io voglio dire una cosa e no aspetta però full heal ti da pure tutti quanti pp tutti no no quello è etero elizir full restore pure store ti da la vita e ti cura i problemi di stato e ricarica totte mirko non posso non ce l'ho tra l'altro aspetta devo salvare raga sono sono veramente forti i prossimi poco ma non troppo c'è da dire però che il primo chi è golur che al 90 erba puoi farli comunque raga benusauri su sto gioco è veramente una bestia vi giuro è fortissimo meno saura benusauri potrei giocare solo con lui solo con lui potrei giocarmela guarda peccato perché fai lice seed comparassi seme gli abbassi la precisione con turbo sabbia e poi gli fai sconfitti entrambi le mosse veleno e la veleni pure raga alla fine oddio che è quel cacchio di bug no aspetta scusa ma non l'ho capita sta stato quello che ha fatto che ce lo avevo addormentato e ha fatto volo lo stesso lo è aspetta quando è che l'ha addormentato quando era in volo no 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 era anche perché non si può fare vabbè oddio c'è Genesect al 95 sciottato con un colpo niente ho battuto battuto ragazzi comunque figo che abbiamo affrontato quelli là di nero e bianco non me lo aspettavo ok ragazzi è andato soffre spettro è andato il tipo non c'è più è scomparso oddio golur che al 90 vabbè l'ultimo al 95 quasi 100 danni ma è facile questo è facilissimo da battere erano più difficili prima fidati ok perché c'è di pokemon che sto facili da sciottare però raga non capisco non capisco dove è andato il tipo miss magius miss magius è un altro che soffre spettro ma ci vuoi andare anche lì non mostri super efficace cioè io l'ho bisogno no ma ce l'ho chandelure per esempio adesso gli vado con un idropompa che mannaia la colonna che lo spegni proprio non lo provo non lo chiudo non è che lo spengo lo metti in cantina full restore te pareva io a l'uso un botte lui eh ah si si ma io lo faccio stufa sai cos'è che manca raga però quella geggio per per aprire le porte quello manca ma tu dov'è cosa bisogna fare adesso genesect genesect soffre fuoco 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 oh burnato con scald miss magius ciao ma si raga genesect l'ho one shottato con charizard cioè sganzati proprio ma io l'ho appena battuto proprio cioè l'ho poco sconfitto lui ciao hai visto questo era più semplice comunque raga si dai adesso che dobbiamo fare dobbiamo uscire non so che ha detto il tipo traduci tu eh no già l'ho fatto il tipo ha detto che doveva correre a fare la cacca quindi lo aspettiamo là? vabbè io esco dal gamecorrer ah mi sa che adesso adesso che abbiamo fatto si sono tolti quei due che occupavano la strada prima però se vai al piano sotto non ti si apre ancora la infatti non capisco come mai vabbè comunque è facile uscire no che è facile ok però una rotura di palle ti fa tutta no c'è un percorso che ti porta direttamente all'uscita oh aspetta ho trovato uno strumento iperpozione ok si io ho zanopiero anch'io ok raga sono uscito vediamo ora cosa succede mi curo la squadra anch'io credo che quei due si siano levati e comunque raga se vi interessa se vi interessa porigon a sto punto spendete soldi e prendete i gettoni no a me non interessa porigon però raga non capiscono vi sapete c'era un percorso prima se vi ricordate c'era un percorso Mirko dove noi ci siamo arrivati e ti portava a quella città particolare ma non dobbiamo tornare la in qualche modo non lo so allora raga infatti nella finale della ventinovesima parte noi eravamo in una grotta dove dovevamo trovare il percorso giusto comunque raga il passaggio è libero quello occupato da quei due non ci stanno più si sto parlando però comunque alla fine abbiamo abbandonato quella parte lì perché abbiamo capito che dovevamo andare altrove ma c'è lì che cosa ci sta perché c'era un'altra cosa da fare lì la stavolta e lì poi c'era c'era una palestra bloccata da un tipo ma penso che noi ci dobbiamo ritornare la in qualche modo adesso se voi andate sul percorso in alto praticamente ci sarà pite e drey non ho capito bene e parliamo con loro un attimo vediamo cosa succede eh mi puoi d'altro per favore cioè puoi prendere Scyther con i gettoni però se vai al percorso sopra nell'arba alta ti esce selvatico si infatti c'è c'è boh che fregatura vabbè ma quelle cose lì forse non le hanno modificate perché non gli andavano sbatti da lì puoi usare il pc comunque è più in alto non è vero ci sono appena andato al centro polo no c'è un percorso in alto c'è un pc che lo puoi usare ah ok si si quello dove piove il percorso oh si si ci sono adesso ci sono tutti i pokemon con le ottero eh shiftry con le ottero erba piti ciao lama si trova ok boh andiamo in alto vediamo un po' che dobbiamo fare ok c'è una struttura molto grande drey eccolo ma questa è pinhole city parlano di una certa pinhole city raga non so che cazzo è pieno di pigne e ci sta un sacco di pinoli no ti prego ah qua c'è drey ci sono tutte reclute ragazzi c'è un bordello assurdo vediamo un po' ma nemmeno il pc dentro questa struttura mi fa usare Fede che stai dicendo a me si me lo fa usare a me no sai perché perché tu non hai inserito lo zaffero e dentro al alla macchina ah è vero è vero per quello non te lo fa usare ma quale macchina ma anche tu l'hai fatto Mirko no ma questo era qualche episodio fa eh mi sembra il 29esimo episodio ah eh si pochè ci sto da battere un po' di reclute sopra ragazzi niente di che si ho visto si ho visto battiamo queste reclute e poi vediamo cosa succede sono arrivato a pinnacle si pinnacle city si pinnacle coi cavoli si dice robot farbloss tra l'altro ma non è pedi ma a me del piccino me ne fregavamo niente perché io sto bene con la mia squadra no vabbè ma era per danni che deve aggiungere Reiko più che altro eh beh eh beh raga dobbiamo sfidare uno il capo ma è fortissimo dai no ma non lo sfidiamo adesso eh io eh ma è partita la sfida eh ma si scema vediamo un attimo ok comunque grotto con il terremoto ragazzi è illegale shot a tutti no eh beh vorrei vedere si shot a tutti ragazzi incredibile uno crobat ah no ora me lo fa usare il pc nel centro pokemon me lo fa usare ah vedi eh lol va bene dai mettimi Reiko in squadra zio ok 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 ho battuto il capo ragazzi l'ho battuto tranquillamente è facile da battere qui abbiamo dallards che è tipo scioccato vedo abbiamo anche Drey che ci da un fullero store se voi li parlate bene ah questo ho capito che città è è la stessa scenetta Dani che succede nelle prime isole quando ci sono gli invasori se ti ricordi che vengono con le moto e e poi non mi ricordo cosa succedeva però ti ricordi un po' tuo si si la seconda isola e però ragazzi è meglio che voi andate ad acquistare le cose nell'altra città c'era una ragazza eh lo so già avevo fatto acquisti perché perché qua non vendono un cacchio vendono due cose solo si esatto ah ok vabbè comunque sia penso che comunque una volta battuto sto allenatore ci possiamo anche fermare no ragazzi mi ha fatto tornare tutto indietro che vuol dire? ho sbagliato c'è una grotta che ti fa tornare a dark side city e quindi e quindi? ma perché ci sta uno zainetto per terra? una borsa? nooo dovrebbe essere un pacco bomba alla Dani noi dobbiamo andare a prendere anche lo zaffiro adesso però io sì ma non lo facciamo oggi eh no lo so però noi siamo tornati tutto indietro pensate c'è una grotta in quella città in alto? eh eh sì io sono entrato là e mi ha riportato praticamente tutto totalmente indietro oddio bravo eh ah io nella prossima parte prima esploro tutto e poi lo dico eh ma non lo sapevo però io voglio far vedere una cosa ai nostri istritti prima di di andarcene ok? cioè? voglio far vedere il posto che abbiamo esplorato io e Mirko e non Dani ecco perché io sono tornato là vedi? ragazzi noi qua siamo adesso no? noi per aggiungere il Kaira Eko siamo passati verso questo percorso qua d'acqua se noi entriamo in questa grotta qua ci porta al Trident Waters se noi andiamo qua sotto in basso sotto sotto ci porta praticamente a una specie di lavandonia rivisitata noi dobbiamo andare proprio qua ragazzi credo non lo so oddio però guardate guardate vi faccio vedere senza battere l'allenatore vedete questa è lavandonia e questa è la torre della lavandonia la Spirit Tower e qua c'è un allenatore che blocca la palestra vedete? comunque nella città da dove te ne sei andato andando tipo a sinistra ci sta tutto un percorso nuovo con gli allenatori Chaos Path il percorso caotico tra l'altro non so se voi lo fate ma io ogni volta che raggiungo un centro pokemon sfido l'assistente eh io l'ho fatto tipo si l'ho fatto nella scorsa parte mi sa perché da un botto di roba oddio c'è un gardevoir selvatico al 75 ci sta cavolo provo a catturarlo poi me lo tengo nel piaccio raga io sono andato nella Twilight Zone tipo nell'altra città e c'era Mew è stato Mew sono tornato dove eravamo tempo fa dai entro ok l'ho catturato comunque raga dobbiamo fare attenzione che abbiamo sforato eh sì dai ragazzi io ci vi salutiamo qua che magari andremo avanti io devo rifarmi tutto il percorso tutto quello che devo fare perché devo ripassare nell'acqua devo ripassare la centrale ragazzi devo fare un giro assurdo ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo avanti vediamo se possiamo fare yes yes ok alla prossima ciao belli ciao 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 ciao